C'è qualcuno che gradirebbe? Sono un sandwich con i gamberetti e una birra grande. Tutto gratis. Io prenderei la birra. Sì, prego. Devi andare da un medico. Non è una cosa normale. Sì, sono molto preoccupato per te. Lo sono anch'io. Sono contenta di sentire che state bene. Sono contenta di sentire che state bene. Già, già. Sono contenta di sentire che state bene. Sono contenta di sentire che state bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.